Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È arrivato ieri pomeriggio, stamattina ha firmato foto di rito, annuncio e primo allenamento. Domani Giuseppe Torromino farà il suo esordio con la San Benedettese. L'ex Livorno, in carriera a quasi 300 presenze e 44 gol in serie B e C, ha scelto la maglia rosso-blu numero 10. Può dare molto, può dare molto perché l'ho conosciuto già ieri, abbiamo parlato, è un ragazzo che mi sembra momentalmente pronto, è un grande professionista, ci può dare sicuramente una grande mano sia a livello di spogliatoio e naturalmente in mezzo al campo perché le sue qualità sono indiscusse. Qualità che Torromino dovrà mettere a servizio di una samba 13 punti dalla vetta a uno dai play-out e in assoluta emergenza per la trasferta di domani a Vasto Girardi. Squalificato Feliz Rabagal, indisponibili Berti, Lulli e Chinellato, ancora. Cardella non recupera dopo il problema accusato alla coscia sinistra ed è a rischio forfè anche capitana Angiulli. Nel caso, centrocampo inedito con Acunzo e l'under umile adattato. Davanti dovremmo vedere Marras, Vita al centro e Torromino. Mister Alfonsi, che lascerà a casa anche Bianchino e Becker, conta sulla voglia di rivalza della samba dopo il K.O. interno contro il Matese. I ragazzi erano arrabbiati di loro perché sapevano che avevano fatto un'ottima prestazione. Quindi abbiamo lavorato, abbiamo lavorato bene questa settimana con alcuni problemini, però siamo carichi e vogliamo rifarci della sconfitta di domenica scorsa. Quindi una battuta sul Vasto Girardi, due punti sopra il rosso-blu in classifica. Domenica scorsa i molisani a Senigallia hanno perso dopo quattro risultati utili. E' una squadra che gioca molto a calcio, non butta una palla, quindi dobbiamo essere bravi a non creare spazi centrali per le loro imbucate. Dobbiamo essere concentrati a non concedere niente. Il campo loro è piccolino, ci dobbiamo adattare subito e dobbiamo fare la nostra grande partita perché abbiamo voglia di rifarci. E intanto, dopo Lorenzo Emili, tornato al Pineto, ha lasciato la samba anche l'attaccante under olandese Amine Lashir, ma è impiegato quest'anno e ora ceduto a titolo definitivo al Ferentino, squadra dell'eccellenza laziale.